Una cavalcata inarrestabile, quella del Teramo, che ha trionfato con merito e che torna in Serie D, un torneo di carattere nazionale con diversi derby all'orizzonte. Al termine di una stagione coronata, oltre che dalla vittoria del campionato, anche dal successo in Coppa Italia, a rendere più magica l'annata. Un bellissimo testa a testa con il Giulianova, che ci ha provato sino alla fine, ha reso sia lo strapotere dalla grande e maniacale continuità della squadra del presidente Di Antonio e che ora riporrà le sue speranze nei play-off nazionali. Una marcia, quella della squadra di Marco Pomante, certificata anche dai numeri, con 90 minuti ancora da giocare, domenica a Cupello, oltre 100 reti realizzate, 103 per l'esattezza, quasi equamente divise, 49 nel primo tempo, 54 nella ripresa. Un giocatore, De Gidio, in testa alla classifica, Cannonieri, ed altri due nei primissimi posti, Dos Santos e Tourè, ma soprattutto 16 marcatori diversi, a testimonianza che i biancorossi hanno vinto di squadra. E poi un dato, quello delle vittorie, è guagliato e che potrebbe essere migliorato, vincendo a Cupello, infatti il Teramo conquisterebbe il successo numero 28, superando le 27 ottenute dalla Pro Vasto nel 98-99 ed il San Nicolò nel 2013-2014. Oltre ai biancorossi hanno già ottenuto il pass per la Serie D diverse formazioni, alcune di grandi prestigio, oltre Po, Ospitaletto, Vigasio, Calvinoale, Sasso Marconi, Cittadella Vismodena, Imperia, Tutto Cuoio, Siena, Ilva Maddalena, Fulgenz Foligno, Sambiase, Nissa, Enna, Acerrana, Sarnese, Isernia e i Lucani dell'FC Francavilla.